Cominciamo partendo dalla zona rossa, la posta come si comporterà nella settimana del vertice? Nella settimana del vertice sicuramente garantiremo il recapito della corrispondenza ordinaria, qualche problema potrà determinarsi per le note difficoltà di circolazione, per la consegna dei pacchi invece. Per quanto riguarda gli uffici postali, noi teremo aperte sicuramente l'ufficio ubicato nella stazione marittima, mentre ci sarà, se ci verrà chiesto, la disponibilità anche ad aprire presso l'aeroporto. Sicuramente abbiamo il progetto di aprire un ufficio postale presso la sala stampa, ubicata nelle magazzine del cotone, dove saranno accreditati più di 4 mila giornalisti. Qui realizzeremo un ufficio realizzato con mobili d'avanguardia, analoghi a quelli che già utilizziamo nei nostri uffici realizzati con nuovo layout. E sarà dotato di tutte le apparecchiature più avanzate.